La stanza è oggi in piazza, tantissime le persone giunte da ogni parte d'Italia. Noi seguiamo il corteo che si sta muovendo adesso lungo Biagabur e ci risentiamo più tardi. E pensano che noi siamo così ingenui da credere a queste panzane, come se non sapessimo che tutte le guerre sono mosse da interessi economici e gli interessi che girano intorno a quella guerra sono ben altri. Sono gli oleodotti degli Stati Uniti, sono i campi doppio e altro ancora. Informatevi, se non lo sapete, su internet. Oggi la verità è a portata di mano, basta volerla cercare. Ma noi siamo ancora lì e nessuno ci dice fino a quando. Compriamo aerei militari per accordi che non conosciamo, a noi non ce lo dicono. E sono pochi quelli che oggi stanno dicendo che possiamo farne a meno, soprattutto in un momento come questo, come i soldi sperperati per opere pubbliche di cui non abbiamo necessità. Abbiamo una scuola che cade a pezzi e nessuno che ci dica di riconvogliare le risorse sulla scuola pubblica per mettere fine a questo sfacello delle private parificate. Qual è stato il risultato di questo scempio di riforma? Il risultato è stato come previsto, l'abbandono della scuola pubblica, ridotta a un cumulo di macerie. C'è un abbandono della scuola, anche quella dell'obbligo crescente e preoccupante. Ma senza la scuola, senza la cultura che è stata la culla di questo Paese, noi abbiamo la più alta concentrazione di opere d'arte del pianeta. Siamo il Paese più bello del mondo, paesaggisticamente, culturalmente, potremmo vivere di queste risorse che il mondo ci invidia. E guardate come siamo ridotti, sta accadendo tutto a pezzi. Ma senza la scuola e la cultura, senza la ricerca, noi mi domando che futuro possiamo avere. Io non ho gli strumenti per dire come ripartire, faccio un altro mestiere. Ma penso che una buona partenza sarebbe quella di ridare una speranza, ritrovando quella passione per il bene comune, per i cittadini che oggi si sentono soli, traditi, non ascoltati. Noi chiediamo ascolto. In tutti i modi abbiamo manifestato la nostra volontà di cambiamento, ma loro sono tutti presi dai talk show televisivi. Escono dalle auto blu, vengono scortati nei palazzi e poi negli studi televisivi. Hanno perso il contatto con i cittadini, non sanno più niente di quello che succede realmente e si domandano pure che cosa vogliamo. E poi si lamentano perché un comico riempie le piazze. Lo criticano, lo deridono, intanto perdono 3 milioni di voti e se la prendono con lui invece di domandarsi dove erano loro, mentre quello stava in mezzo alla gente a sentire il polso del Paese. Ora corrono ai ripari, ma non per amore, solo perché temono di essere spazzati via. E noi invece abbiamo bisogno d'amore. Amore non è una parola astratta. I cittadini hanno davvero bisogno di sentirsi considerati, capiti, ascoltati. Hanno bisogno di risposte concrete sul lavoro, vogliono sapere che futuro li attende, che cosa succederà ai propri figli. Ridateci la speranza. Poi chiedeteci anche i sacrifici, ma dateci la sicurezza che state lavorando per noi e non per voi. La politica dovrebbe lavorare per la felicità dei cittadini, invece noi siamo tristi, arrabbiati, disillusi, preoccupati. Io lo so che sono una donna fortunata e giuro che non passa giorno in cui io non ringrazio Dio per questo, per questo privilegio che mi è stato dato, ma questo non mi impedisce di provare solidarietà e compassione per tutta quella fascia di popolazione che non ce la fa. Proprio chi è più fortunato ha il dovere di stare a fianco di chi questa fortuna non l'ha avuta. E' un dovere civile, è dare un senso alla propria vita. Ecco perché sono qui, perché queste sono le facce che avrei voluto vedere alla guida del governo del mio e del nostro Paese. E' perché non voglio lasciare la speranza, questa soddisfazione non gliela darò. Penso che insieme noi ce la possiamo ancora fare. Grazie, grazie infinite. Grazie a tutti.